Ciao a tutti e buon 2015! Io sono in macchina, sto andando a pranzo dalla Daniele del Grosso a parlare di come cambieremo il mondo nell'anno nuovo. Per parlare di come cambieremo il mondo dobbiamo parlare anche degli errori che abbiamo fatto, di come è successo nel 2014, di come si può migliorare. Allora, mentre cammiavo, sono due ore di strada da Roma a Cepagatti, mi sono fatto una pensatina su come è andato l'anno che abbiamo trascorso. Ci sono state tantissime cose fantastiche, io l'ho scritto in diversi post ultimamente, appunto con l'arrivo dell'anno nuovo, una delle cose più belle che abbiamo fatto è cambiare completamente la logica politica. Abbiamo ottenuto dei risultati sia concreti, quelli che poi conoscete bene grazie all'attività legislativa, ma soprattutto abbiamo imposto un modo di fare politica nuova e differente, abbiamo imposto un nuovo pensiero. Pensate che prima di arrivare noi in Parlamento il PD non aveva mai votato l'utilizzo di intercettazioni per un condannato, o meglio per uno sotto indagine, non aveva mai concesso gli arresti per un deputato. Con l'arrivo del nostro in Parlamento tutto questo è diventato realtà. Perché? Perché il PD ha paura oggi del confronto. La maggioranza, anche il PD è ovviamente, ha paura di doversi confrontare con noi e qui abbiamo introdotto in modo indiretto la questione morale, quella di cui parlava Pertini, la questione morale dentro il Parlamento. Questo è un risultato che non è quantificabile a me di un valore incredibile. Questo è soltanto una parte, perché poi c'è tutta la parte relativa, appunto, come vi dicevo, alla parte legislativa, quindi siamo riusciti a portare in Parlamento una mozione sull'immigrazione, quindi quella sulla regione del Trattato di Dublino che hanno approvato interamente, l'introduzione del fondo per la piccola e media impresa, tutte quelle cose che sapete già benissimo. Ma non basta. Non basta perché io girando per l'Italia, per ogni weekend, per ogni weekend di tutto l'anno, ho notato come tutti i miei colleghi alcune cose, alcune cose che non vanno bene, ma non vanno bene soltanto per il Movimento 5 Stelle a punto di vista politico, non vanno bene per quello che è l'origine del Movimento 5 Stelle. Di fatto abbiamo purtroppo un po' cambiato la radice stessa della nostra azione da attivisti. Quello che è successo, che mi ha turbato nel 2014, è un po' l'abbandono da parte dei meetup e della logica di attivismo civico, sociale, nella propria città. E si è passata di più alla logica di partito politico, quindi di parlare di alta politica nazionale, europea, come se i problemi fossero tutti lì e basta. I problemi, e questo basta leggere la carta di Firenze per ricordarsi un po' dove siamo nati, i problemi in realtà nascono nei comuni e nei comuni vanno risolti. E nei comuni chi è che agisce? Il meetup. Perché abbiamo la fortuna di avere il sindaco ancora in troppi pochi comuni, quindi non possiamo affidarci semplicemente a quello. E quindi dobbiamo farci noi carico di questa responsabilità come abbiamo sempre fatto dal 2005 in avanti. Ed è un po' in quest'ottica, e qui mi aggancio anche a quello che è successo come cambiamenti strutturali del Movimento 5 Stelle negli ultimi mesi. E in quest'ottica che abbiamo creato, vogliamo chiamarle strutture, non abbiamo da avere paura di nulla perché quando noi parliamo anche di strutture noi parliamo in modo totalmente differente dai partiti. Comunque abbiamo creato questi livelli, diciamo, intermedi tra tutti noi attivisti e quello che appunto era attaccato come il fantomatico staff che nessuno sapeva chi fosse. Ora c'è qualcosa che ci può raccontare chi è lo staff, che ci può far parlare con lo staff e che ci permetterà probabilmente di avere un dialogo migliore. Abbiamo creato questo direttorio che abbiamo tutti noi votato, tra l'altro è una percentuale altissima e il direttore ci servirà. Io ho la fortuna ovviamente di viverci a fianco, ma vedo già una differenza. Vedo la differenza nel fatto che i meetup, nel fatto che gli attivisti e chiunque abbia interesse a voler parlare con noi che abbiamo l'onore e l'onere di rappresentarvi a lei un po' più alto, quello del Parlamento italiano. Ora si può fare, si può fare perché c'è questo livello intermedio che serve un po' anche a unire le parti e poi avrà un compito fondamentale, che già tra l'altro si è visto qualcosa, che è quello di creare un po' delle linee guida generali per il movimento, perché uno dei grandi problemi che abbiamo avuto in questo anno è solo quello di essere un pochettino così all'arrembaggio su alcune cose, una regione che faceva in un modo, l'altra nell'altro. Avere questa struttura qui, che tra l'altro raccoglie le nostre richieste, le nostre, le vostre, tutti gli attivisti italiani, fa sì che, ad esempio, ora con le cinque regioni che sono andate al voto, il metodo è lo stesso per tutte, è una cosa che non ce l'ha mai stato fino ad ora. Questo è già un grande passo, perché? Perché in passato una regione metteva la regola sui condannati, l'altra non la metteva in un altro modo, quell'altra presentava liste che avevano dentro persone che magari erano soltanto superattivisti, altri invece mettevano chiunque e nessuno aveva torto, nessuno aveva ragione, ma era un metodo diverso e quindi non andava bene. Ora miglioreremo anche queste cose. L'altra cosa che abbiamo creato, anche questa votata, è quest'organo di tre persone che valuterà le espulsioni, tra le altre cose, questo dico soltanto quella che per me è la più importante. Alcuni ci hanno attaccato dicendo, avete anche voi ora delle strutture come i partiti. No, abbiamo semplicemente degli organi di garanzia in più. Nessuno ha rinnegato il concetto base, ovvero per peghergli il garante del Movimento 5 Stelle, ma c'è qualcosa in più ora. C'è che se il portavoce eletto o anche l'attivista viene per qualche ragione allontanata dal Movimento 5 Stelle, come è stato fino ad ora. Non neghiamocelo, al 2014 trovava una porta chiusa davanti e non poteva più fare nulla, non poteva appellarsi a nessuno. Ora c'è un organo di garanzia a cui potrà appellarsi, chiedere, dichiarirsi e in caso di essere reintegrato. Per me questo è un passo verso la democrazia che è assolutamente necessario e quindi ho sposato molto volentieri e ho votato molto volentieri. Io vorrei che per l'anno nuovo, oltre a migliorare tante di queste procedure che finora sono state un pochettino complicate, ci mettessimo anche in un'ottica mentale nuova. Cioè ho visto tanto pessimismo in questo anno legato ai cambiamenti. C'è stata una paura enorme verso il cambiamento, no? Non tanto quello verso la politica perché l'abbiamo cambiata in meglio sicuramente, ma quello più interno. Il Movimento era così, non può cambiare. Ma un movimento nasce proprio per poter cambiare. L'importante è che cambia sempre con dei principi che sono sempre gli stessi, la buona fede e la voglia di fare qualcosa di meglio. E soprattutto che ci mettiamo sempre nell'ottica che non c'è un'entità nera sopra di noi che ci manda in una direzione sbagliata per qualche motivo di opportunismo. Abbiamo sempre quelle stesse persone che ci hanno portato dove siamo, di cui dobbiamo fidarci, ma fidarci non perché è per partito preso, fidarci perché finora ci hanno portato dove siamo arrivati, dando la loro vita per far sì che si arrivasse a questo. Quindi per me quando Beppe Grillo, che è il nostro garante, crea queste strutture intermedie, le crea, e se non crediamo più in questo abbiamo finito di credere nel Movimento, le crea con l'ottica di fare qualcosa di meglio, di migliorare l'attività del Movimento 5 Stelle. Mettiamoci in quest'ottica e cambiamo veramente il paese perché se ovviamente puntando a migliorare il Movimento 5 Stelle ci mettiamo in ottica positiva, questa si dirama assolutamente su tutta l'attività che fa il Movimento 5 Stelle a livello sia dei comuni che delle regioni che del Parlamento. Noi ovviamente ci sentiamo parte centrale di questo cambiamento perché capite che tutto quello che facciamo noi a Parlamento Italiano è sempre con un'eco assurda, però deve cambiare questa visione a partire dai consigli di zona e allora noi avremo la vita molto più facile perché sarà tutto un propagarsi di un'energia positiva che ci fa cambiare tutto. Io credo che il 2015 possa essere l'anno giusto perché tra essi siamo più in difficoltà, il Parlamento non fa nulla di fatto e il governo tutto quello che fa fa danno. Quindi credo che arriverà un'ondata che spazzere via questa gente e a quel punto noi dovremo essere pronti. Essere pronti significa non vedere più attivisti o gente che vuole avvicinarsi al 5 Stelle che scappa impaurita perché non capisce quello che succede. Noi che si riattivi quel meccanismo virtuoso che avevamo nel 2009. Quindi la gente, i comitati devono capire che noi siamo dalla loro parte e che noi lottiamo per salvare veramente per cambiare il paese. Facciamolo insieme e il 2015 sarà un anno sicuramente radioso. Pensiamo in quest'ottica, pensiamo in energia positiva e luce e noi sicuramente cambiamo le cose grazie a questa nuova energia. Quindi buon 2015 a tutti e ora vado a pranzo da Daniele e gli porto tanti i vostri saluti.